Anche Confindustria, che ha affrontato il tema della sostenibilità e della responsabilità sociale anche negli anni scorsi in maniera direi meno strutturata, ha capito, e questo grazie al nostro presidente Vincenzo Boccia, che il tema è diventato il tema più importante per il futuro delle nostre imprese. Questo ha significato intanto cambiare proprio a livello strutturale l'organizzazione nostra interna, perché ora esiste un gruppo tecnico che si occupa di responsabilità sociale di impresa, questo gruppo sta all'interno della delega delle politiche industriali, perché per noi questo significa lavorare sulla competitività delle imprese e anche rispondere, in un certo senso contrastare anche quella cultura anti-industriale che spesso si sente ancora nel nostro paese, che invece se si confrontasse con quello che i nostri imprenditori fanno sui nostri territori, si scoprirebbero delle cose veramente molto interessanti e la sostenibilità è uno dei driver più interessanti e più importanti.